E' stato pubblicato l'avviso Fondo di Garanzia Mutualistica 2021-2027 della Regione Puglia per l'accesso al credito e il sostegno al tessuto imprenditoriale pugliese. Con questa misura l'ente regionale si pone l'obiettivo di offrire garanzie mutualistiche sui prestiti in favore di micro, piccole e medie imprese, PMI, nonché di liberi professionisti. Tra le principali finalità dell'avviso, quelle di promuovere lo sviluppo delle imprese, anche nei processi di internazionalizzazione, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie dirette, oltre che valorizzare ulteriormente il ruolo dei Confidi, Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi, per l'espansione del credito nel territorio, visti anche gli importanti risultati ottenuti nella passata programmazione, con oltre 3.000 finanziamenti concessi per un importo complessivo di circa 480 milioni di euro, a fronte di garanzie erogate pari a oltre 350 milioni di euro. Per l'assessore allo sviluppo economico, Alessandro Dell'Inoci, si tratta di un sostegno concreto alle imprese che vogliono investire o che vivono un momento di difficoltà finanziaria, a cui assicuriamo, spiega Dell'Inoci, attraverso la rete dei Confidi, presenti in regione, adeguate risorse per sostenere gli investimenti e quindi la crescita anche occupazionale. Inoltre l'assessore pugliese ricorda, sulla base degli ultimi dati Istat, che la Puglia continua a crescere e a recuperare i punti di pile erosi a causa delle crisi globali dal 2008 in poi, e cresce anche il tasso di occupazione. Attraverso il lavoro congiunto con altri enti, conclude Dell'Inoci, si riesce a sostenere chi è in difficoltà e a valorizzare chi vuole continuare a investire in Puglia.